Ciao a tutti, spero per voi che siate pronti perché sto per raccontarvi la storia della mia vita, o meglio, come mai è finita, e se state ascoltando queste cassette è perché voi siete una delle ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà in causa, ma non preoccupatevi, se avete ricevuto questo bel pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori, ve lo prometto. Il mio consiglio di lettura di oggi è 13, di Jay Asher, il romanzo da cui è nata la famosa serie tv che sta sconvolgendo il mondo. Venite a trovarci sui nostri social e raccontateci cosa ne pensate.